I carboidrati fanno ingrassare? Non ne sarei proprio certo. Ebbene, questa risposta ormai è ovvia. I carboidrati non fanno ingrassare. Ricordate, va bene, te lo ripeto, i carboidrati non fanno ingrassare. Ma perché? Ti spiego il motivo. Ma prima mi voglio presentare. Sono Pietro MacFit e sono un personal trainer. Ti svelerò i tre motivi per i quali i carboidrati non fanno ingrassare. Uno dei primi motivi dipende da quanti carboidrati ingerisci secondo il tuo fabbisogno calorico, ma anche da quanta attività motoria fai durante la tua giornata. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è per la sua funzione. Innanzitutto vengono scissi in molecole più semplici, detti zuccheri, e vengono trasportati nel sangue poi per lavorare su tutto il nostro corpo. Ok, ma dove vanno realmente a finire questi carboidrati? In primis, vengono utilizzati dal cervello per la nostra contrazione muscolatica. Il restante, quello che non serve, viene estivato sotto forma di grasso e poi riutilizzato nel momento del bisogno. Una parte dei carboidrati viene utilizzata direttamente come glicogeno nei muscoli e nel fegato. Ricordiamoci che il glicogeno è la nostra benzina per il workout, per il nostro allenamento. Quindi è molto molto importante non allenarsi a stomaco vuoto, ma allenarsi con un minimo di fonte di carboidrati. Ricordiamoci però che per sua natura c'è un'attrazione di H2O, quindi di acqua. E quindi è per questo che quando mangiamo i carboidrati ci sentiamo molto più gonfi. Ma semplicemente perché è questa acqua che viene accumulata nel muscolo. Ecco che arriviamo al terzo punto dove vado a spiegarti semplicemente perché una dieta iperproteica non è una dieta adatta per perdere grasso. Semplicemente proprio per questo motivo che abbiamo detto prima. Noi abbiamo acqua dentro il muscolo. Se noi andiamo a togliere il carboidrato dalla nostra alimentazione andremo solamente a fare una perdita di peso e non una perdita di grasso. Quindi queste alimentazioni sono adatte per perdere peso e non per dimagrire. Attenzione che una volta tolto il carboidrato bisogna essere anche molto bravi a saperlo reinserire. Altrimenti come si sa da tutto quello che ci circonda il classico effetto yo-yo o il classico effetto fisarmonica. Dove tolgo, vado a fare un calo di peso, poi rinserisco il carboidrato e immaginamente ritorno, se non come prima, ancora più peso. Andiamo a rielencare quello che abbiamo appena visto. Prima regola, i carboidrati non fanno ingrassare. Ovviamente se ne abusi sì. Due, mangiare quantità di carboidrati in base all'attività fisica che viene svolta durante la giornata. E tre, ricordati sempre che togliendo il carboidrato non vado a dimagrire ma vado solamente a togliere dell'acqua. Dopo un bel po' di tempo inizierà il processo della perdita di peso. Ma tutto questo deve essere accomunato a un'attività fisica dove un personal trainer come me può aiutarti in questo caso. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!